Presidente, quanto è importante questo centro di formazione qui a Firenze proprio per la sua federazione? Intanto è importante per il prestigio della città, è importante per l'investimento che abbiamo fatto che è andato oltre le nostre previsioni, investiamo circa 750 mila euro. Facciamo di Firenze un collegato, se passate questo termine a Coverciano, diventa il punto di riferimento del mondo dilettantistico, abbiamo già individuato tutte le nostre manifestazioni nazionali e internazionali qui a Firenze. Siamo in crescita anche sotto l'aspetto della presenza del pubblico, siamo in crescita come calciatori, siamo in crescita, non credevo che tutte le società potessero assolvere questi gravosi impegni e credo che sia buon auspicio in funzione di quello che succederà l'anno prossimo. Posso chiederle, in Consiglio federale si è sempre discusso della famosa riforma dei campionati, c'è stato magari anche qualche consigliatore del Presidente Macaglia, a che situazioni siamo? La riforma dei campionati non la fa il Consiglio federale, la fa l'economia, la fa il sistema che permetterà ai soggetti in grado di iscriversi solo se hanno titolo, quelli che non potranno farlo non si iscriveranno, quindi la riforma la farà il mondo economico sportivo, non la federazione. Grazie mille Presidente.